Madonna, capoe, dopo entriate tutti quanti dentro che salutiamo tutti quanti e ringraziamo queste persone che sono rimaste fino alla fine Andiamo? Vado? 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 Vado solo voglia di staccare e andare altrove non importa altrove quando non importa come avevo solamente voglia di tirarmi su per non pensarti e poi lasciarmi ricadere giù E allora andiamo al mare in mezzo a un temporale quando la pioggia cade cadì tu cercavo un mare caldo ho trovato te Vado? 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 tanta gente ancora che non è andata via, quindi complimenti a voi Angelo, veramente un bel spettacolo, grazie a te. Io vorrei qui con me, il consigliere Mario, perché vorrei dire qualche parola anche con lui, visto che era presente all'amministrazione, io l'ho detto, l'ho detto prima, prima che arrivavi, prima che arrivavi, che...